2 milioni di euro per il completamento dell'accesso dal pescarese a passo lanciano, 4 milioni per la viabilità di prati di Tivo, 16 milioni di euro per i moli guardiani nuovi del porto di Pescara che dovrebbero così limitare gli interventi di dragaggio assieme all'intervento già completato del taglio della diga forania e poi altri interventi per un milione ciascuno sul pontile di Roseto degli Abruzzi e sul porto turistico di Francavilla che così potrà uscire dal novero delle incompiute, altri 6 milioni per le infrastrutture dei bacini sciistici di Ovindoli, Magnola, Rocca di Mezzo e Campo Felice, 1,3 milioni per la riparazione della diga di penne e 10 milioni per il tratto ferroviario Quadri-Castel di Sangro. Questi gli otto interventi per un totale di 41 milioni di euro stanziati dal Cipe pubblicati in gazzetta ufficiale. Il senatore ed ex presidente della regione D'Alfonso ha voluto rispondere così alle polemiche dello scorso febbraio sulla inesistenza dello stanziamento con una conferenza stampa in comune a Pescara a cui hanno partecipato anche diversi amministratori locali. A loro l'invito ad appaltare subito le opere pubbliche prima che si entri nel vortice della legge di bilancio che potrebbe riportare a Roma i fondi. Le risorse Cipe c'erano davvero dal 28 di febbraio, sono state deliberate dal Cipe e il tempo tecnico per la pubblicazione ha richiesto praticamente 180 giorni anche per la verifica della Corte dei Conti. Sono 41 milioni e 350 mila euro che sono pronta cassa nella pancia del bilancio di province e denti locali. Adesso la preghiera che io rivolgo alle forze politiche che sono qui presenti ma anche ai loro funzionari di appaltare subito perché io penso che il mese di settembre sarà un mese pieno di ghiaccio e poi da ottobre cominciano i pericoli della finanza pubblica nazionale. Questi soldi che sono pronti vanno appaltati subito per renderli irrevocabili dopo la brutta esperienza dei fondi del piano periferie.